ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un videolo per quanto riguarda i saldi ho fatto un bel po di acquisti per quanto riguarda i saldi e volevo farveli vedere allora iniziamo subito questo ovviamente come avete letto già dal titolo si tratta di saldi per quanto riguarda abbigliamento sono stata da H&M questo è il bustone enorme perché ho preso delle cosucce che mi servivano e sinceramente ho preso delle cose che sono rimasta veramente molto molto contenta aspettate che mi abbasso un pochettino proprio tengo la busta qua sopra così mi viene anche pelle allora ho preso delle cose sono in fissa con un colore in particolare dite qual è questo colore questo qua vabbè lo lascio vediamo se riesco a mettere un acqua cade vabbè lo lascio qui per terra allora ho preso questa felpa che della disney segnata disney nella misura l l'ho presa a 20 euro ed è una felpa semplicissima con topolino tono su tono il topolino ovviamente è in rilievo ed è una cosa che io adoro questo verde semplicissime molto molto particolare è uguale identico alla maglietta che indosso mi piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere è così semplice una felpa ovviamente semplicissima con i bordini e poi la parte dietro è così io queste le utilizzo tantissimo per quanto riguarda messe con i jeans ed è una cosa che mi piace ed è una cosa che mi piace tantissimo andiamo avanti e ho preso altre cose molto particolari tra cui questo che non so se si vede bene così io non so se posso farvi il try on all perché in questo periodo ho un bel po di cose da fare perché stiamo facendo la stanzetta nuova dei ragazzi e quindi sono un po' indaffarata però se ho la possibilità vi faccio il try on all però poi lo vedrete dal titolo se c'è o non c'è comunque ho preso questo maglioncino che è molto molto particolare perché ha questo scollo quadrato che poi lo potete utilizzare sia a barca che quadrato normalmente a questo mi piace tantissimo perché il tessuto è morbidissimo ed è un maglioncino pazzesco perché c'ha la manica così e poi vi fa quell'effetto palloncino che io adoro in assoluto mi piace tanto 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 e io ho preso sempre una l e l'ho pagata 25 euro 24 99 mi piace tantissimo perché bianco e soprattutto perché ha questo questa morbidezza veramente molto molto bella poi non è il mio solito prendere delle tute abbinate ma avevo visto questa felpa e poi gli ho abbinato il pantalone e ho visto che era uguale quindi l'ho voluta prendere sto parlando di questa felpa questa è molto più leggera di quella che avete visto poco fa anche se di dentro è leggermente felpatina però come tessuto è molto più leggera di quella ho preso questo beige e crew molto molto bello mi piace tantissimo questo colore io lo indosso tranquillamente anche per uscire tipo vado da mia mamma ed ho preso questa felpa con la scritta love con la scritta love l'ho pagata 10 euro 9 99 ho preso una l ed è una felpa semplicissima e poi c'è la parte dietro che è semplice proprio è tipo il modello oversize abbastanza grande infatti ho preso la l perché la xl sinceramente mi sembrava troppo esagerata ovviamente abbinato c'erano questi pantaloni io l'ho voluti prendere e ho preso sempre una l perché la xl era molto grande io a me piacciono i pantaloni che siano abbastanza grandi che non siano troppo aderenti specialmente le tute perché mi piace stare comoda se io devo diciamo uscire devo essere un po più particolare metto dei jeans ma se devo stare comoda tranquilla eccetera preferisco una misura più grande preferisco le tute e quindi ho preso questo è enorme non non si vede nel riquadro comunque è una l giusto si è una l e questa l'ho pagata 15 euro ed è fatta così semplicissima dietro non ha niente la particolarità è che ha il polsino sotto c'è l'arricciatura sotto ed è una cosa che a me piace tantissimo poi dallo sportivo all'elegante ci passiamo così con una shoalance ho preso questo quando l'ho visto io mi sono innamorata sembrava un centrino sembra un centrino ma a me piace tantissimo infatti quando l'ho visto proprio è stata forse la seconda cosa prima il maglioncino bianco e poi questo è bellissimo cioè lo dovete vedere indossato ed è questa bellezza ed è questo vestitino fatto tutto con questi ritagli attaccati perché sono delle cose attaccate con le maniche semplicissime così come le vedete questa è la parte davanti non so se ha bottoncini no non ha bottoncini ha questa scollatura così semplice poi va a scendere 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 e fare delle balze non so se si vedono perché adesso sono piena di allora e fa queste balze io adoro adoro questo vestito lo adoro veramente di questo ho preso la xl perché mi piace abbastanza largo e poi gli metto la cintura e l'ho preso a 19,99 cioè 20 euro questo vestito molto bello anche come fattura nel senso come tessuto mi piace tantissimo perché questi ritagli nella parte di dentro di questi ritagli a delle decorazioni sono veramente molto molto belli e mi piace mi piace proprio il fatto di avere queste balze nella parte di sotto cioè è veramente uno splendore poi a questo prezzo sinceramente l'ho voluto prendere subito poi sempre per quanto riguarda scendere ho preso altre cose perché ci sono stata poi un'altra volta e ho preso altre due cosucce tra cui una maglietta sempre nello stile pomposo quindi scusate che è un po' stropicciata perché l'avevo provata perché avevo preso sia questa che una camicia sempre con le maniche in questa maniera ma la camicia sinceramente il pompon delle maniche mi arrivava fino a qua cioè è una cosa incredibile quindi l'effetto si toglieva e lo cambiate io sono andata a cambiarle ho preso tutto quello che avete visto fino adesso quindi non mi conviene cambiarli allora la maglietta in questione è questa scusate che è stropicciata la maglietta in questione è questa come vedete ha le maniche a palloncino e si fermano proprio dove c'è il tatuaggio quindi bello si ferma nella giusta posizione la magliettina è semplicissima e io l'ho indossata per vederla addosso ovviamente a scusate questa ho preso una xl e l'ho pagata 9 euro e 99 10 euro e io l'ho messa all'interno perché è molto più carina all'interno che messa all'esterno di questi pantaloni ho preso questo tipo di pantalone mi piace molto come mi sta ed ha questo effetto tipo quadrato con i quadretti molto molto semplice nella parte di dietro ha le tasche in questa maniera ed è molto carino perché ha una doppia chiusura quindi ha una chiusura con il bottoncino che qua e una chiusura con queste asticelle che devo dire fa un effetto molto particolare io la maglietta l'ho messa all'interno del pantalone e sinceramente mi è piaciuto tantissimo ovviamente adesso li vedete stropecciate ma io ora li lavo e tutto e quindi non ho un problema io ho preso una 44 che di norma corrisponde se non mi sbaglio a una 48 io ancora prendo una 48 perché ho la panciotta e quindi preferisco prendere la misura così comunque cade dritto 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 fino arrivare alla parte finale che mi arriva sinceramente giusta ma ho notato che c'è anche una parte di dentro quindi se per caso siete un pochettino più alte di me lo potete anche sfilare nella parte di sotto e allungarlo leggermente devo dire che è un ottimo pantalone come comodità mi piace sinceramente mi piace poi andiamo avanti e prendo il sacchetto qua sotto sono stata anche da berska io di solito non compro niente perché ovviamente le misure sono abbastanza strimensite quindi per la mia taglia non trovo mai niente ma questi magliancini sinceramente mi sono piaciuti ho comprato anche un libro questi magliancini mi sono piaciuti e quindi li ho voluti prendere sono anche dei colori molto molto particolari quindi aiuto e quindi li ho voluti prendere allora il primo che vi faccio vedere è una morbida una morbida una morbidezza pazzesca ragazzi pazzesca mi piace tantissimo perché è bello morbido e questo li utilizzo con i jeans proprio jeans se certe volte posso mettere una magliettina di cotone bianco nella parte di sotto e poi mettere il magliancino oppure direttamente con una camicia sotto a me piacciono tantissimo ed è questo magliancino in questo color giallo canarino veramente giallo canarino morbido che di più morbido non si può proprio uguale al maglione bianco che ho preso in The Ch&M ed è tipo quello un pochettino più corto a me arriva direttamente sulla cintura quindi sulla cinta le maniche sono normale e lunghe questa è la fortuna io ho preso la misura L e l'ho pagato 20 euro devo dire che mi strapiace è morbidissimo e non vedo l'ora veramente di utilizzarlo come questo ho preso la scollatura è leggermente più diversa cioè leggermente più diversa è leggermente diversa ho preso questo colore beige che quest'anno il marroncino beige si utilizzerà in una maniera assoluta e questo è diversa come diciamo tipologia di maglione questo assomiglia a quello che ho preso l'anno scorso da The Ch&M come tipologia perché quello giallo assomiglia proprio a quello bianco è identico come tessuto la manica è così tipo sempre un pochettino a campana nel senso che si allarga e il maglioncino è questo è la stessa identica cosa di quello di poco fa che si ferma in vita questo l'ho preso sempre una L e l'ho pagato 20 euro mi piacciono tantissimo questi tipi di maglioncini perché certe volte utilizzo quei maglioncini abbastanza grandi da ricoprirmi tutta ma certe volte mi piace anche essere un pochettino più particolare con i maglioncini abbastanza corti o da far uscire la magliettina di cotone sotto oppure tipo la camicia ed è una cosa molto molto bella l'ultima cosa che vi faccio vedere le ultime due ho preso delle magliettine e ho preso aspetta questa è un'altra per quanto riguarda Berska ho preso questa maglietta e l'ho pagata ho preso sempre la L e l'ho pagata 7,99 quindi 8 euro ho preso questa magliettina semplicissima bianca con questa scritta mi piace tantissimo questa scritta con bianco e rosso cioè blu e rosso mi piace molto c'è scritto I am like wild cats quindi io amigat non lo so comunque questa magliettina qua semplicissima con le maniche così queste sono delle magliettine che loro chiamano oversize ma che a me stanno benissimo ed è così semplice con questo disegno molto molto particolare e poi nella parte di dietro è bianca semplice questo non so se ve l'ho detto l'ho preso 7,99 euro poi l'ultima cosa che vi faccio vedere e chiudo qui il video se non mi sbaglio io ho preso tutto quello è là quello è là quello è là ok l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda i saldi e abbigliamento ho preso una magliettina semplicissima da Stradivarius e ho preso questa molto molto semplice con questa scritta qui al centro ovviamente bianca ed è molto molto bella di questa magliettina ho preso la L perché la XL era troppo grande sinceramente e l'ho pagata 5,99 quindi 6 euro ed è molto particolare nel senso ha questa scritta e già ti fai un outfit con i jeans molto molto bella specialmente queste magliettine così decorate e semplici in questo modo semplice io li utilizzo mettendo poi una giacchettina manica lunga ovviamente di sopra e io esco tranquillamente così quindi per quanto riguarda questo video io direi che è tutto ditemi ovviamente cosa ne pensate se vi piacciono i miei acquisti se cosa ne dite del vestitino di H&M aspetto ovviamente i vostri commenti giù per rispondere come sempre che dirvi di più io per quanto riguarda i saldi credo di aver finito ma sono sicura al 100% di aver finito di acquistare per quanto riguarda questo video io vi saluto vi mando un massissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao